Cosa coso? Ah ok Che cazzo è sto suono? Niente si può fonder... Che è successo? Ma dove sei? Ma qua dove? Io non sono al portale Ero sulla nave ancora Temperatura ambientale 112 gradi Biosciences Nominal Eh ho notato Mi manda di la E si vado di qua invece? Vale sotto la cascata Vale Sotto dove? Sotto qua? Sopra qua? Eh No non è che riuscivo a prenderlo Mi sono messo l'arco Che poi su dovevo fare Ho dovuto andare da altre parti Ah ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito E come hai fatto a prenderlo? Eh ho notato Eh ho notato Eh ho notato Sotto 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 vicino C'è da scanalizzare? C'è da scanalizzare? C'è da scanalizzare? Ah Ah Non puoi far salire da sopra Eh non ho capito niente dov'è che sono Ah L'albero repulsivo L'albero verde Un tempo Trondoso Che è diventato malaticcio e canceroso Eh di che è morto? Eh Sto vedendo un attimo dove è andato No proprio manco io Ma c'è il coso Ecco Cos'è? Eh beh che mi fa venire qua? Chi c'è qua? Ah si continua fino di là Mamma 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 Sali Ah ma si sale fino in c Chi cazzo Che cazzo è quel coso lì? Scansiona Scansiona Ma è un pesce rosso che vola Un pesce rosso lanterna Ah è un Golding Quello di Goldfish Lì quello di Pokémon Pesce volante reale Uditi e udite Annunciamo l'arrivo di sua altezza reale Benedetto Deiretano Deficante Ma come c'è una missione su quello? Doveva ammazzarlo? No No Ah ti sembra strano che era quello Non ho capito che cazzo sto andando se c'è da me Ah che c'è del materiale almeno Eh ma è un uccello palla alfa È un uccello palla No ma l'uccello palla è quello che sta qua Eh ma taci sua L'uccello palla alfa è questo qua che sta qua Ah Eh quelli piccoli sono quelli Boom Preso Eh quando c'è ben opportunità qua c'è qualcos'altro di alieno Perché mi dà I cosi da rompere Ma scusa ma questi qua non li ho mai scannerizzati? No Ok Chi è questo qua in mezzo? Eh Oddio santo che è sto coso? Chi è sto coso? E non me li fa vedere Svadiscono Eccolo qui Eh certo Ecco Con la moce Ah ok Ah ok Appaiono con i portali Aspetta No C'è più C'è più Uno Due E il terzo? Eh si E il terzo è qua dentro C'è un fungo? Non penso proprio Qualcosa che fai splash Eccolo granata Boom Un E va bene E c'è il metallo alieno e e lo so pioggia come diritto di qua per il momento un attimo perché ci sono cose da prendere sì quanti sono 50 metri è quello amo non so quanti sono 50 metri che se lo faccio a meno lo posso fare lo stesso certo così tipo è ma non me l'ha dato ma la bisogna vedere magari su internet così ma ci dice ti dice ti dice più roba insomma ma salgo verso la scuola la scuola da ambergare in che senso la pò è un pezzo di nocciola questo enorme nocciola sta bloccando lo sfiato virulento sotto di essa sembra impossibile da rompere forse possiamo spostarla infatti mi dà il simbolo del simbolo della che mi dava il simbolo del del rampino che lo spostato e standra ma cosa c'è qua dentro si rompe con l'acido comunque e c'è qualcos'altro a prendere intanto sposto le nocciole qua e da quanto ho capito danno fastidio e insomma i moghieri l'alambra la rompi e tira qualcos'altro a faccio male se non faceva male era soltanto aria invece non fa male mi serve l'acido però per buttare su quella specie di funghi che poi ti dà un corso lampino e tu lo puoi agganciare ma i semi bambino cosa servono e ha capito ma se non c'è il corso della granata acida io come faccio a farlo salve aveva ancora voi voce per caso ma cosa servito bambino o c'è scansione gelatina la parola spalle blare così a sonato super vedere se c'era di cosi ma non ci vince ho capito ma io non l'ho trovato poi devi portare di là prima di che scoppiano se la fai a portarlo lì prima che ti scoppiano in mano devi buttare contro l'ambra per liberare il coso c'è un fumo o non funziona qua? ho mangiucchiato mi dico ah no ma ci posso attraverso sinceramente è libero è libero eh sì ti ho detto io invece questo è una pausa che cosa? eh se non hai quei cosi la non puoi ma vicino a questi mi attaccano? cosa che si? salve signori voi attaccate? eh appunto è quello mi senti che mi attaccano? sii così li puoi ammazzare qua i cicciodali reali perché sennò ti attaccano a quanto ho capito se non ti attaccano a quanto ho capito ma vabbè a posto ti da sedicia in più c'è questo e mangiano come se fossero maiali eh sì no non c'è un cazzo no e il fungio tu fungi o tu fuggi eh sì bisogna trovare la cosa per sbloccare la granata quella acida fino ad allora qua non penso che abbia un significato venirci lo dico acida merda orca troia era quello alfa non lo sapevo penso di sì si è la bomba batterica mi fa ho trovato un posto utile porco giù che cazzo è? chi mi ha lanciato l'uovo di pasqua qua? cosa cazzo mi è caduto in testa? e nel fondo c'è qualcosa eh? ma cos'è che mi sta volando addosso? non si capisce un cazzo fammi riflessinare la vita sennò quanto prima perchè? eh sì lo so e quindi qua non bisogna andarci allora io no secondo che missioni c'è adesso io devo andare da una parte però non trovo quello per curarmi però non ho capito chi è che mi lancia il liquido schifo aspetta che ora ci faccio vedere dove bisogna andare però c'è qualcuno che ti lancia il liquido devo fare il giro ancora dove trovare la pianta che non fa male dai questi fanno male e te stai ferma davanti a loro i pesci volanti eh ce l'avevi praticamente dietro vieni un attimo qua con me ok io stavo andando sal di qua poi c'è quella cosa che ti lancia della roba rossa ma non ho capito dove cazzo sta eccolo chi è? oddio quel fio... ah è un pomodono è un pomo stronzo che si rifà si praticamente aspetta che faccio così va ok vedi a cosa serve il coso lampino come si usa e il problema è come cazzo ci vado e il problema è come cazzo ci vado io ne ho solo uno adesso sto dove? e come fai a buttarlo giù? e devo andare lì in fondo ok e ti ho detto che fa male si l'altro ce l'avevo già eh mo però cadò cadò nell'acido immagino ma l'acido mi sciotta e perché non c'ho fa un po' male fa un po' male fa un po' male si però ci sono riuscito ah c'è questo specchio qua e sta roba tavoletto tavoletto a rivelo un segnale video che di ora proviene da questa struttura e me cosa devo fare? doppialla schiaffi? ok l'importante è che me ne abbia dati altri me amo aioh ah che fa male eh non sembra ma fa male e allora come c'è il rumore no levi eh ho capito aspetta un attimo mi scendo giù fatto e andiamo con Koso va col portale col portale di Gengiskan come è senti? metta la cancha in mano la c'è un rumore questo si fa quando è scarico voglio andare a casa casa dov'è? mi ricarico tutto e poi andiamo a casa voglio andare a casa e e abitati al giame il caso dov'è? Tina tu puoi creare un upgrade se vuoi aspetta un attimo vedo un upgrade possiamo creare ok allora su e via ah lo va no eh ma ha detto che potevo creare e basta? e facciamo un cinturale di attrezzi superiore un upgrade completo grazie 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 vanno gli applausi devi mica leggere le cose sul computer a il messaggio? vai con un minghiale vero che cazzo è quel po' vuoi parlare con alcuni dei formi più fattili di slime e la eh Ma manco c'è... Eh, ma va bene l'alba. Sì, quello che pulisce il... Ma porco Giuda, mi ha fatto togliere. Eh, mi sa che devi farlo tu, eh. A parte che ho ricevuto un frammento di trasmissione di quelli che abbiamo raccolto. Eh, e poi abbiamo scogliato l'uno e il set. Eh, ma c'è... Devi farlo tu a me, comunque. Devi compilarlo tu. Perché è il tuo o è il tuo storia? Di partita. In chiaro, il 2034 stiamo. Come è bene, pessimo. Eh? Ah, ma c'è pure il ventilatore nel letto. Io... Io sto nella scatoletta lì. C'è scritto Meat Buddy. Cosa? Allora, prendo tutti i cosi qua, tutti i grob, perché almeno così erano sti noti che andiamo. Non c'è un problema. Ma la doccia pari non si può fare. Minimal Monkey's Micro Mills Plaza. Minimal Monkey's Micro Mills Plaza. The ultimate Earth Life Center. Grazie per la tua cooperazione. È una minor rinforza per migliorare il tuo mood overall. Abbiamo aumentato l'amount di Aux Band Pharmaceuticals che si è iniezionato automaticamente in il tuo cuore. Ammettisci i risultati al tuo rinforzo. Sembra quello lì che La pubblicità che ho visto Sembra quando l'episodio Quello dei Simpson quando Lisa per sbaglio Mette il suo dente, la Coca Cola E l'elettricità e crea tutta Un'altra civiltà praticamente Che poi vanno a rompere il cazzo a Bach Perché lui va lì e distrugge Diciamo il municipio Il punto focale della città Va buono Amo non fai esplode sto coso